Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di FanoTV ben ritrovati sul canale 17 che come tutte le mattine alle 7.45 è in diretta per la rassegna stampa un'occhiata ai giornali che faremo tra un istante non prima di aver dato un'occhiata al calendario di oggi per il santo oggi sono due santi nazario e celso martiri il sole sorto le 5.51 e tramonterà le 20.38 allora il tempo il tempo che farà questa oggi e nei prossimi giorni oggi lunedì 28 luglio avremo un cielo irregolarmente nuvoloso locali piovaschi o brevi rovesci soprattutto nell'entroterra e nella parte meridionale della regione i venti sono inizialmente da nord con brezza leggera in rotazione ed intensificazione a brezza tesa da sud dai quadranti meridionali nel corso della giornata il mare sarà mosso quindi attenzione martedì domani si avvicina ancora di più il maltempo previsto per la giornata di mercoledì ma insomma per domani avremo cielo nuvoloso molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale le temperature lieve diminuzione nei valori massimi per quanto riguarda la tendenza per i giorni successivi una nuova perturbazione interesserà la nostra regione durante le giornate di martedì e in particolare mercoledì a seguito ritorneranno poi condizioni di bel tempo allora cominciamo a dare un'occhiata ai giornali prima però di andare a vedere i giornali vi do una comunicazione di servizio soprattutto se state per uscire di casa e state per prendere l'autostrada perché c'è una ultima ora che riguarda un camion un camion che si è ribaltato andiamo a vedere l'immagine questa immagine che è stata scattata circa un quarto d'ora fa vedete questo camion pieno che trasportava bale di fieno bale di paglia si è ribaltato sulla rampa e stava evidentemente andando a prendere l'autostrada stava arrivando dalla super quindi dalla e 78 da quello che si evince così da una dinamica penso che abbia fatto l'autista un po tutto tutto da solo vedete ha perso il carico si è adagiato su un fianco ovviamente per andare in autostrada la strada è chiusa in questo momento lo sarà credo ancora per qualche ora il tempo di ripulire la sede stradale di portare via il camion insomma ci sa ce ne sarà un po di lavoro considerate che è successo intorno alle sei e mezzo di questa mattina considerate che ci ancora ci vorrà un po un po vediamo anche quest'altra immagine scattata da ancora da più in alto ed esce già la polizia stradale che sulla sulla sinistra e i mezzi di i mezzi tecnici per poter innanzitutto tirare sul camion e poi ovviamente raccogliere e pulire tutta la sede stradale quindi questa è la notizia se dovete andare in autostrada insomma sappiate che lì c'è un po di trambusto allora il trambusto c'è stato anche in questo fine settimana invece che abbiamo lasciato alle spalle il cattivo tempo cattivo tempo che continua a creare danni lo ha fatto sabato intorno alle 13.30 con una bomba d'acqua della quale vi abbiamo raccontato di tutto di più in una diretta lunga tutto un pomeriggio fino a sera bomba d'acqua che ha creato dicevo molti disagi anche molti danni in particolare nella zona sud della città di Fano quindi camminate tombaccia ponte sasso il rio crinaccio che è esondato e che ha praticamente cancellato un paio di concessionari di spiaggia allora intanto cosa scrivono i giornali oggi raccontano adesso un po di storie un po le storie di persone che si sono comunque rimboccate le mani che si sono comunque date da fare come questa imprenditrice questo imprenditore di mondolfo paolo manocchi che ha affittato un'escavatrice per fare da solo per ripulire da solo un po quello che il maltempo ha causato nella sua ditta a mondolfo mentre sotto monte i camping sono stati graziati infatti sotto monte camping norina e marinella sono sopravvissuti al nubifragio anche perché come dicevamo sabato il tutto il maltempo ha colpito in particolare la zona sud di Fano il titolo la ditta invasa dal fango e dall'acqua escavatrice e drovora tutto a mie spese la protesta di un imprenditore 4 metri di tanto è salito il livello del rio stacciola in meno di un'ora e sull'altra pagina del resto del carlino ponte sasso e marotta un disastro i bagnini nessuno ci ha avvertito distrutti 120 metri da renile conta dei danni chiesto lo stato di calamità il sindaco di Fano Massimo Serie e quello di mondolfo cavallo oggi formalizzeranno alla regione la richiesta dello stato di calamità penso sia uno stato di emergenza ma comunque va bene allo stesso l'importante che sia la richiesta di soldi per andare a sistemare tutto quello che non va e per ripagare se possibile anche queste persone risarcendo un po i danni numerosissimi danni che l'incuria e la cattiva gestione delle cose hanno creato dunque faranno questa richiesta e vediamo quale sarà poi l'esito l'accusa intanto l'accusa del sindaco di Fano Seri lo diceva anche in diretta sabato pomeriggio colpa dei lavori per la terza corsia allagamenti che si ripetono dopo l'avvio dei lavori della terza corsia della 14 a proposito dell'esondazione del rio crinaccio puntano il dito contro il cantiere stradale anche gli albergatori e lo stesso presidente dell'assemblea legislativa Solazzi anche lui intervistato in diretta da noi e che ha detto appunto la stessa identica cosa il problema sono i lavori della 14 cioè da quando hanno fatto questi lavori il rio crinaccio sta ricevendo troppa acqua perché anche l'acqua della 14 va a finire in questo piccolo canale torniamo andiamo un attimo sul sì restiamo sul resto del carlino perché oggi arrivano i RIS i RIS per vivisezionare l'auto di Francoletti l'imprenditore agricolo di 34 anni morto carbonizzato dentro la sua Fiat punto domenica scorsa in uno spiazzo tra gli albusti sull'argile del fiume Metauro a Sant'Ippolito sempre in provincia di Pesaro Urbino dove il giovane si era recato per pescare lo hanno trovato appunto morto carbonizzato uno dei nodi da sciogliere è capire il combustibile usato e se ci sono eventuali tracce ancora dal resto del carlino la pagina di Fano oggi oggi pomeriggio alle 15 e 30 c'è l'occupazione l'occupazione pacifica dell'ospedale Santa Croce Fano difende l'ospedale da oggi occupazione Giancarlo Danna tanti cittadini dice sono con me l'appuntamento è qui alle 15 e 30 si andrà avanti ad oltranza centinaia le adesioni ricevute che hanno permesso a Danna di organizzare due turni tutti di due ore o meglio turni di due ore con quattro persone ciascuna notte compresa il Corriere Adriatico via le Trieste andiamo a Pesaro maxi parcheggio blocciato il sindaco Matteo Ricci non cambia idea intanto la minoranza vuole sapere quanto sono costati il progetto ed il bando la cronaca botte e minacce all'ex fidanzata torna in carcere lo stalk recidivo è un 45enne di Tavuglia sabato scorso i carabinieri di Cattolica lo hanno intercettato e fermato lui è un operaio con numerosi precedenti alle spalle accusato proprio di atti persecutori nei confronti di una donna la sua ex di Cattolica Fosso Segliore Ledimar qui ancora i disagi e gli interventi nelle zone colpite dal nubifragio in azione i tecnici del centro operativo per risolvere anche i problemi elettrici ancora dal Corriere da Fossombrone gli archeologi francesi rinvengono una cisterna fortunata scoperta alla Forum Semproni quasi probabilmente nel punto in cui questi archeologi francesi hanno effettuato gli scavi in quel punto probabilmente si trovava sorgeva un tempo la una farmacia un'antica farmacia nella pagina di Fano del Corriere Adriatico stato di emergenza per Fano e Mondolfo la richiesta della provincia subito il ripascimento degli arenili a Ponteria una palazzina danneggiata evacuate sei famiglie intanto l'assessore Marco Paolini che ricorderete chi ha seguito la lunga diretta di sabato a un certo punto un po' sconsolato ma ha detto anche ha riferito anche di aver ricevuto delle minacce personali in quelle ore mentre ancora imperversava il maltempo telefonate minatorie minacce da persone che stavano in quel momento subendo forti danni a causa del maltempo e Paolini dice oggi al giornale una vasca di laminazione per mitigare le piene società autostrade nega ogni responsabilità ma vogliamo effettuare comunque una verifica dal messaggero l'edizione di Pesaro maltempo a 14 sotto accuse il comune di Fano contro la società autostrade per il disastro del rio Crinaccio a Ponte Sasso sale la rabbia dei residenti a Mondolfo un'anziana è stata travolta dal fango che è stata travolta dal fango si frattura un polso il rogo del pesce azzurro l'inchiesta ha fugato le cattiverie ora che la rete investigativa si è chiusa su 7 persone accusate di aver avuto un ruolo nell'attentato incendiario al ristorante pesce azzurro il direttore Pezzolesi ha potuto tirare un sospiro di sollievo anche togliendosi qualche sassolino una voce malevola lo ricorderete ma non ce lo possiamo negare lo abbiamo per un secondo pensato tutti quanti una voce malevola, un sospetto calunioso sul self service di Viale Adriatico non ha inficiato la straordinaria solidarietà mostrata ma di sicuro non ha fatto piacere qualcuno a un certo punto insistentemente c'era questa voce, questa vocina che girava ma non è che saranno stati per farlo nuovo eccetera eccetera ecco questa è una cosa invece che questa inchiesta questa splendida ottima inchiesta dopo 4 anni da quel tragico evento dell'incendio del pesce azzurro insomma dopo 4 anni i carabinieri hanno rimesso appunto ogni tassello rimesso a posto e hanno ricostruito tutto quanto e quindi l'inchiesta ha fugato tutte le cattiverie nei confronti del pesce azzurro ma adesso si sa che c'è sempre chi da che mondo è mondo è sempre stato così per cui non bisogna prendersela più di tanto allora occupazione pacifica del Santa Croce iniziativa a sostegno dell'ospedale Fanese del consigliere Danna con l'appoggio del Movimento 5 Stelle mentre il piano dell'assessore Briglia a Pesero la sicurezza prima di tutto alberi pericolosi per loro ci sono i giorni contati è stato predisposto infatti dall'amministrazione pesarese un censimento sulle piante per capire quante sono da abbattere perché malate oppure pericolose e poi vedete a parte le X si capisce però pioggia fino a giovedì questo è l'intervento del meteorologo del messaggero che purtroppo per la Regione Marche non dà grandi speranze anche qui le altre notizie sempre dalla pagina del messaggero oggi ci sono gli inserti sportivi la promessa di Matteo Ricci sindaco di Pesero la ciclabile in via Milano l'annuncio del taglio al taglio del nastro della pista invece di via Tolmino e poi chiudiamo con la pagina del maltempo sempre da Pesero e provincia maltempo nella Conte dei Danni tutti contro la 14 il Comune di Fano aveva fatto presente i rischi alla società autostrade paura per un'anziana che scivola nel fango e si frattura il polso i residenti di Ponterio accusano l'amministrazione di mancati interventi di salvaguardia e annunciano denunce ancora dalla prima pagina e richiamo l'indagine sul pesce azzurro spazzate inutili cattivere prima di chiudere vi ricordo ancora una volta per chi si fosse messo in contatto si sia sintonizzato in questo momento per tutti quelli che lo hanno fatto adesso dunque vedete questa immagine questo camion che si è ribaltato sulla rampa dell'autostrada A14 al casello di Fano è un'immagine scattata una mezz'ora fa quindi ecco sicuramente questa rampa è ancora chiusa se state per prendere l'autostrada ecco sappiate che forse è il caso di andare verso Marotto oppure verso Pesero perché in questo momento è chiusa per consentire di liberare la carreggiata di ripulirla e di sistemare un po' tutto quanto vedete questo camion che tutto da solo si è ha fatto tutto da solo si è ribaltato non credo che l'autista si è ferito perché mi pare di averlo individuato lì questa mattina vicino al suo mezzo ribaltato quindi insomma c'è solo da sistemare un po' l'area vedete per fortuna il resto non ci sono né feriti quindi sappiate che c'è anche questa notizia dell'ultima ora grazie per averci seguito questa sera 20 e 30 occhio alla notizia buongiorno grazie per aver guardato il video